Ciao ragazzi, allora oggi provo a farvi ascoltare la nuova arrivata di casa che è questa bellezza qua che come vedete insomma ha una discreta somiglianza con quest'altra signorina allora è una PRS McCarty Softball del 2004 è una timetop, ha appunto un top in acero flame la colorazione è dark cherry è tutta in mogano sia il manico che il corpo la tastiera è in palissandra indiano i pick up invece sono 2 P90 dollar non sono gli originali ma mi piacciono molto questi spingono tanto e rendono ancora più particolare il P90 e ve la faccio ascoltare nella Mazd 28 settata piuttosto clean insomma dai e nella Grossman ho un greenback microfonato con un Sunrise 906 e un S-Electronics VR2 come al solito e vi faccio sentire un po' di suoni clean e overdrive vi inserirò qualche effetto poi nel video vi renderò chiaro in suo modo sto utilizzando e niente, ecco la carrellata di solito e niente, ecco la carrellata di solito e un S-Electronics VR3 come al solito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.